Alcuni giovani di 5 Rotaract presenti a Verona durante la stagione natalizia incartando pacchi regalo hanno raccolto fondi da destinare con Oxfam allo Yemen e un'altra cifra per sostenere le donne di Petra nella loro quotidianità con una serie di attrezzature. Questa mattina la consegna come ci ha spiegato l'assessore alla cultura Francesca Briani. Vede coinvolti i giovani di un Rotaract Cristian e Linda che hanno voluto attraverso un service donare e raccogliere fondi per donare i beni che vediamo qua alle mie spalle alla Casa di Petra. Quindi l'iniziativa che parte dai giovani che sono sempre più sensibili e sensibilizzati sul tema della violenza domestica. La Casa di Petra è una casa che accoglie donne che escono dall'emergenza e che sono riuscite diciamo a superare il momento più brutto e che attraverso, è una casa del Comune di Verona, del centro antiviolenza e che le accompagna per un periodo fino a sei mesi anche insieme ai loro figli per un recupero, un inserimento sociale e anche professionale, quindi un recupero della loro vita.